Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello, faccio questi video perché sono un appassionato di moto, se anche tu come me lo sai iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno e ti ringrazio. Oggi ti parlo di Honda Hornet 600 del 2005, una breve storia che ci porta nel 1998 quando la Honda Hornet nasce e di fatto si tratta di una moto che viene definita subito appartenente al genere naked e anche sportiva, insomma viste le sue caratteristiche. Inoltre le viene attribuito l'appellativo di street fighter, quindi letteralmente ha il significato di combattente della strada, in questo caso si tratta appunto di una moto che di fatto è di serie ma che riprende i concetti che rappresentano appunto il mondo della street fighter, cioè di una moto personalizzata ottenuta togliendo la carenatura a cui vengono poi fatte delle modifiche che conferiscono un'immagine aggressiva e portano quindi la moto a essere diversa rispetto all'originale. Ma Honda appunto nasce già con queste caratteristiche. La termine Hornet significa calabrone e nel 2005 arriviamo quindi alla quarta versione di questa moto in cui viene appunto cambiata la forcella che diventa steli rovesciati. La strumentazione diventa digitale ed è presente anche un nuovo cupolino. Questa versione quindi rimane in produzione dal 2005 fino al 2006. Questo punto lo vediamo in questa immagine, quindi notiamo queste caratteristiche, innanzitutto un bellissimo colore che l'accompagna, il fatto di avere gli scarichi verso l'alto, quindi sotto sella, il bel motore e appunto questo nuovo cupolino che la rappresenta e caratterizza. Inoltre appunto, visto che abbiamo parlato della forcella, notiamo appunto che è una forcella steli rovesciati. Ma andiamo con ordine e passiamo dal motore, 4 cilindri linea, raffreddato liquido, 4 tempi naturalmente con una cilindrata di 599 cm3. La distribuzione è bialbero in testa e 4 sole valvole per cilindro. Potenza massima di 96 cavalli a 12.000 giro al minuto con una coppia massima di 63 Nm a 9.500 giri al minuto. Il telaio è formato da un monotrave in acciaio con la sospensione anteriore appunto formata da una forcella telescopica a steli rovesciati da 41 mm di diametro. L'escursione dell'anteriore è di 120 mm. Poi abbiamo sempre all'anteriore un doppio freno a disco, vediamolo meglio nell'immagine, eccolo qui, da 296 mm con la sella che è alta 795 mm da terra. Al posteriore abbiamo il mono ammortizzatore regolabile nel precarico su 7 posizioni con l'escursione della ruota di 128 mm. Il freno a disco singolo da 220 mm e le belle ruote in lega leggera sono da 17 pollici. Il serbatoio è anch'esso da 17 litri però, naturalmente il peso secco di suoi 178 kg e il prezzo che all'epoca era di 7.430 euro. Se ti è piaciuto il video metti like, se non ti è piaciuto metti dislike, vai iscriviti al canale e attiva la campanella per due motivi. Prima gratis, non ti costa nulla ma contribuisce alla diffusione del canale e ti ringrazio. In secondo luogo faccio un video al giorno, quindi sarai sempre aggiornato sui nuovi contenuti. Qui sotto i tuoi commenti sono sempre molto graditi. Ciao, grazie mille per l'attenzione e buona serata.